Professor Gaetano Oliva, stiamo parlando all'evento di oggi di un aumento del carico epidemiologico di malattia di Lyme e di Leishmaniosi. Possiamo dare una dimensione per quanto riguarda l'Italia e manca una loro localizzazione aggiornata? Sì, parliamo di una malattia antica, una malattia che conosciamo da oltre 100 anni e che ha uno scenario epidemiologico in Italia in costante evoluzione. Quella a cui stiamo assistendo è che l'infezione si sta, soprattutto diagnosticata nei cani ma anche nel gatto e ovviamente con delle punte di segnalazione anche nella medicina umana si sta diffondendo in un contesto diverso da quello abitualmente endemico. Noi fino a 25-30 anni fa eravamo abituati a pensare alla Leishmaniosi come una infezione, malattia tipicamente del sud Italia o comunque della fascia costiera mediterranea e delle isole. Oggi assistiamo sempre di più a uno spostamento e degli insetti che la trasmettono, quindi i flebotomi e ovviamente di nuovi casi in aree del centro e nord Italia che non erano fino ad oggi state considerate endemiche. E questa corrisponde a sieroprevalenze che nelle isole sfiorano il 20-25% con delle sacche simili anche in tutto il sud e centro Italia e nel nord abbiamo delle prevalenze significativamente importanti che ovviamente non ancora sono paragonabili a quelle del sud Italia ma che testimoniano sicuramente uno sviluppo a cui dovremo sempre di più abituarci. Proprio per i ricambiamenti climatici a cui stiamo assistendo. Prevenire, proteggere sia l'animale che l'uomo, in che modo? Abbiamo tantissimi strumenti di prevenzione. Noi abbiamo la prevenzione più importante che è quella, diciamo, dalla puntura degli insetti vettori. Quindi utilizzare tutti gli strumenti che oggi sono sul mercato per prevenire la puntura dei frebotomi vettori sia nei nostri animali che nell'uomo. Bisogna anche ricordare che è necessario prevenire che l'animale, una volta che si sia infettato, diventi un serbatoio attivo di infezione sia per gli altri animali che per l'uomo. Quindi proteggere a maggior ragione anche gli animali infetti o malati. E questo, diciamo, è un dato importante perché noi abbiamo sia degli strumenti che prevengono dalla puntura gli animali sani. Quindi impediscono, limitano il rischio di infezione. Ma abbiamo anche degli strumenti, come delle compresse, che chiamiamo isoassazzoline, che una volta che il cane sia, ad esempio, infetto o malato, se somministriamo questi prodotti, i flebotomi, una volta che hanno punto questo cane infetto o malato, andranno a morire perché hanno assunto, diciamo, il farmaco in questione. Dobbiamo anche ricordare che quelli che chiamiamo repellenti, quindi gocce, collari, spray e quant'altro, sono anche in grado non solo di non far pungere l'animale, ma il fatto che il flebotomo riesca ad arrivare sulla superficie dell'animale fa sì che venga anche a contatto con questo prodotto che è nella cute dell'animale e, diciamo, questo causa la morte del flebotomo. Quindi tutti i prodotti di prevenzione sono alla stessa maniera dei prodotti che non solo impediscono la puntura, ma anche determinano la morte dell'insetto. Altro strumento importante è il vaccino. Il vaccino che non riesce a prevenire l'infezione, ma che è molto efficace nel prevenire la malattia. E questo, diciamo, la combinazione tra i repellenti e il vaccino è considerato oggi il migliore strumento di prevenzione. Professore, nel suo intervento poco fa ha riequilibrato un concetto che è passato molto in questi ultimi mesi e anni, e cioè che il 70-80% di malattie infettive derivi in qualche maniera dagli animali, e quindi abbia un'origine zoonotica. Cosa c'è che non va in questa affermazione? L'affermazione sostanzialmente è corretta, però inquadrata in un contesto di One Health probabilmente andrebbe meglio coniugata se noi diciamo che in uno stesso ambiente animali e uomo hanno possibilità di contrarre gli stessi patogeni e ovviamente ci sono poi espressioni di infezione e di malattia diversa a seconda della risposta del sistema immunitario. Ma la possibilità di venire a contatto con il patoggio sono poche le patologie che derivino per contatto da un animale all'uomo. Siccome oggi parlavamo di malattie trasmesse da troppo di vettori, quindi da insetti, è chiaro che in uno stesso contesto ambientale uomo e animali hanno la stessa possibilità. Quindi evitare di considerare l'animale come il colpevole di una trasmissione all'uomo quando in realtà i colpevoli, se così possiamo chiamarli, sono gli insetti. Grazie. 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 Grazie.